20 regioni in 20 giorni è l'obiettivo di un giovane e la sua troupe strenui difensori della natura e il messaggio che lanciano forte a difesa dell'ambiente in tutta Italia, regione per regione, isole comprese. Ogni tappa sarà un'occasione per promuovere il territorio attraverso un'area protetta, un cibo locale a chilometri zero e il messaggio di un personaggio noto originario della regione. Letino, piccolo centro della provincia di Caserta, ha ospitato l'iniziativa lo scorso 17 settembre in rappresentanza della regione Campania. Inutile dire che l'iniziativa sta facendo il giro del mondo perché il coraggio di questo giovane che gira con una moto elettrica è davvero un esempio da seguire e che dovrà farci riflettere. Con lui porta dei bruchi ben protetti che fra 20 giorni diventeranno farfalle e che lui simbolicamente farà volare nell'aria che si spera possa diventare sempre più pura. Da Letino è tutto, Lorenzo Applauso, per caseltasera.it.